...annunciare a Di Maio Premier pur di fare un governo con il Partito Democratico? Io a questa domanda non ti rispondo sinceramente perché mi interessa il contratto. Diamo il tempo al PD, il contratto avrà dentro il nostro programma, aspettiamo i punti programmatici del PD e scriviamo questo benedetto contratto e facciamo partire un governo di cambiamento. Grazie ragazzi, grazie, grazie, grazie. No, da sentimi andare ragazzi. Se ve lo chiedono, però a questo punto se è quello il discrimine... Ciao. ...inclativa e il voto. ...inclativa e il voto. Io non voglio essere maleducato però ragazzi, non posso essere sequestrato. Voi avete detto che cosomai si torna a votare, ma il Presidente della Repubblica non sembra molto contento di questa eventualità. Quindi se vi dovesse proporre un governo tecnico o del Presidente? L'unico governo che può cambiare il Paese è un governo con il Movimento 5 Stelle dentro ragazzi, non un governo tecnico. Grazie. Non si preoccupate.